Un progetto che è Smart Agro, nuove tecnologie nell'archivio di San Lardaro. Adesso il pedale psichiatrico di San Lardaro è sicuramente diventato un po' lo interessantissimo per quello che riguarda la storia della psichiatria. L'archivio è davvero, ovviamente, culturale molto interessante, con una documentazione sia sanitaria che amministrativa, ma oltre all'archivio c'è anche il museo di storia della psichiatria e la biblioteca scientifica di PIP, per cui gli studenti del liceo, dell'Italia Nossa e della regione hanno potuto lavorare sulla base di tutte queste fonti proprio per contribuire a implementare l'apparato di Vascali con il museo. Quindi, in due parti fondamentali sono, come dicevo, le scelte mani anche dell'Italia Nossa, di Reggio e l'archivio del sottotitato psichiatrico di San Lardaro. Grazie.